Ok, guardiamo un film ora! Aspetta, quale pulsante era? Ah! Verdino, sto cercando di concentrarmi! Oh! Fatti un po' più in là! Ma mamma, Verdino mi ha spinto! Verdino, ma che cosa ti salta in mente? Ora tieni le mani a posto, per favore, giovanoto! Verdino, ha una testa di cuscino! Raffica di vento, in questa casa non si chiamano le persone testa di cuscino! Mmm, brava mammina! Bam! Ma mamma, Verdino mi ha colpito! Beh, questa te la sei un po' cercata! Non ne sarei proprio sicura! Ia! Verdino, tesoro, vieni giù da lì! Io credo che a questi bambini serva un po' di esercizio! Che ne dici se ora noi li portiamo a fare una nuotata nella piscina al coperto? Sì! Andiamo, ragazzi! Torda indietro e lavati i denti, signorina! Forza, forza! La piscina è da questa parte! Ah! Camminate dritti! È difficilissimo quando i figli non danno ascolto! Già, è proprio così! Ragazzi, ma perché non riuscite a camminare in fila indiana? Non sanno come si fa! Glielo devi far vedere tu! Ora vi faccio vedere una cosa, ragazzi! Bop! 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 Io non credo sia una buona idea! Beh, a me non vengono altre idee! Bop! Forza, Verdino! Sei abbastanza grande da camminare da solo! Verdino ha un po' di difficoltà a camminare! Oh, che assurdità! Ha due gambe! Bop! Da questa parte! Bop! No, no, stai giù! Bop! Io non capisco proprio perché continui a sfuggirmi! Secondo me è più forte di lui! Ok, eccoli tutti in piscina! Godetevi la nuotata, tesorini miei! E ora ascoltami bene! Se io ti lascio uscire da lì, vuoi finalmente comportarti bene o hai intenzione di volare di nuovo sul soffitto?